Compagno di classe alle medie di Paolo Maldini, come affermato in una puntata di Striscia la notizia del giugno 2009, è stato anche, per breve tempo, calciatore. Conclusi gli studi di ragioneria si trasferì in Australia dove militò per due anni in una squadra calcistica rientrato in Italia si avvicinò al mondo dello spettacolo. Divenendo conduttore radiofonico ed interpretando ruoli secondari in alcuni film, tra cui il testimone dello sposo di Pupi Avati.